Musica Viabilità, finanziamenti per la provincia di Isernia dalla regione fondi straordinari per 1.200.000 euro soprattutto per l'Alto Molise, ci sono novità anche per la bretella di Castelpizzuto dopo la frana Musica Sisma 2018, le richieste dei sindaci chiedono al commissario Toma la proroga dei termini per produrre le pratiche intanto concesse le credenziali per la piattaforma finora inattiva Peste su Ina, via libera al piano regionale di interventi l'obiettivo è contenere ed eliminare i rischi legati a questa emergenza e a quella dei cinghiali in 5 anni si prevede con le misure una drastica riduzione di ungulati Presentato il bando Turismo e Cultura 2022-2023 illustrati contenuti in conferenza stampa a Campobasso dall'assessore Cotugno e dal governatore Toma oltre 7 milioni di euro stanziati dal 2018 per il settore Campobasso società in silenzio dopo l'esclusione Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei vertici rosso-blu che hanno fatto sparire il calcio professionistico in Molise Intanto in eccellenza e promozione Buon pomeriggio Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di emergenza Viabilità, soprattutto in Alto Molise Con la prolungata chiusura delle assenti occorre predisporre una viabilità alternativa che offra la maggiore sicurezza possibile visto che sarà usata dai pullman che porteranno gli studenti ad Agnone Per questo la provincia di Isernia ha ottenuto dalla regione un finanziamento straordinario di 1.200.000 euro ma ci sono novità anche per quanto riguarda la bretella di Castelpizzuto dopo la frana Sentiamo Enzo Di Gaetano Viabilità in Alto Molise L'emergenza è continua Per ora di riaprire il ponte Sente che collega Agnone con l'Abruzzo non se ne parla Occorre uno studio preliminare un progetto e tanti soldi Comunque per il momento occorre far subito fronte ad una ripresa autunnale che si presenta problematica perché il percorso alternativo quello della strada provinciale Estonia è dissestato e pericoloso tale da non consentire il passaggio a normali pullman ma solo a minibus Per questo mettere l'Istonia in sicurezza è essenziale perché centilaia di abruzzesi raggiungono ogni giorno Agnone per frequentare scuole, ospedale e uffici vari Problema in via di soluzione perché la regione ha risposto all'appello lanciato dalla provincia di Isernia Abbiamo ottenuto la concessione di 1.200.000 euro per il rifacimento dell'intero tratto provinciale della Istonia che è centrale per l'Alto Molise Insomma siamo impegnati su tanti fronti per migliorare la viabilità che significa sicurezza per i cittadini che vi transitano Ma c'è anche un'altra emergenza quella di Castelpizzuto il paesino alle porte di Iseni ha tagliato fuori da più di un anno dopo la frana che ha distrutto la strada provinciale come per il Sente anche qui c'è un'alternativa è quella della Bretella e anche qui la provincia sta intervenendo Abbiamo asfaltato dopo credo 20 anni è un tratto importante del centro di Longano e sappiamo quanto Longano risenta delle problematiche connesse al transito dei mezzi pesanti che vanno verso lo stabilimento della Castellina sempre per restare in tema Castelpizzuto dopo un'intesa raggiunta qualche settimana fa in prefettura d'accordo con il sindaco di Castelpizzuto abbiamo provveduto ulteriormente a rinforzare con asfalto la famosa o famigerata Bretella stiamo completando in questi giorni ovviamente lì la priorità resta sempre l'ottenimento del finanziamento su questo continuiamo a premere con la regione per avere la concessione formale la regione sta attendendo un decreto dalla Protezione Civile Nazionale in tal senso Adesso il bollettino dell'ASREM con i dati Covid l'ultimo bollettino quello di ieri sera sono 245 nuovi positivi su 848 tamponi refertati tasso di positività al 28,9% i guariti sono 139 si registra un ricovero in malattie infettive nessuna dimissione sono 22 pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali in due in terapia intensiva dei nuovi positivi 33 sono di Campobasso e 28 di Termoli numeri inferiori negli altri comuni interessati gli attualmente positivi in Molise sono 5.250 La politica adesso la direzione regionale del Partito Democratico ha diramato la lista delle persone disponibili ad accettare una candidatura alle prossime elezioni politiche si tratta dei massimi dirigenti del partito ma non manca qualche sorpresa tra i nomi assenti infatti quello della Capogruppo in Regione Micaela Fanelli sentiamo Pasquale Di Bello L'interessata non ne ha fatto mai mistero e l'ambizione è legittimata da un curriculum che la giustifica ampiamente non testa quindi sorpresa il fatto che Micaela Fanelli Capogruppo regionale del PD punti allo scranno più alto della Regione quello di Presidente c'è questa prospettiva alla base della sua mancata disponibilità a correre per il Parlamento a chiedere l'impegno in prima persona erano stati vertici nazionali del partito il cui obiettivo è quello di massimizzare l'espressione di voto in un momento particolarmente difficile per i democratici la scelta di Fanelli tuttavia era prevedibile vista l'interlocuzione avuta nelle scorse settimane col segretario regionale Facciolla che invece alle politiche ci sarà incontro nel corso del quale l'ex sindaco di Riccia si era dichiarata disponibile ma solo per le regionali ho già accorso due volte per le politiche adesso gli obiettivi sono altri questo in sintesi il pensiero dell'interessata bisognerà adesso capire quale accoglimento avrà questa posizione all'interno del partito alle regionali 2023 non manca molto e dopo le elezioni politiche i partiti saranno chiamati a scegliere chi correrà per il ruolo di governatore è lì che si misurerà la bontà o meno della scelta fatta oggi da Michela Fanelli per i 13 nomi in campo si tratta in tutti i casi di maggiorenti del partito democratico oltre a Vittorino Facciolla hanno dato la propria disponibilità a candidarsi per le elezioni politiche del 25 settembre Oscar Scurti Bibiana Chierchia Giovanna Viola Francesco Sonesi Andrea Vertolo Giuseppe Cecere Carlo Veneziale Ovidio Bontempo Stefano Buono Caterina Cerroni e Maria Teresa D'Achille E adesso una denuncia che ci arriva direttamente da tre telespettatori Alessandra Annalisa e Nicola Tanno nostra madre dicono di 76 anni malata terminale immunodepressa e con polmonite abbandonata da 40 ore in pronto soccorso al Cardarelli e noi familiari non sappiamo nulla ci raccontano che la donna è affetta da una forma di tumore aggressivo al cervello dopo la sospensione della radioterapia e la chemio era stato prescritto un ciclo di iniezioni con un farmaco particolare ma continuano i figli della donna non c'è stato possibile entrarne in possesso per ostacoli tecnici e burocratici che impedivano alla farmacia del Cardarelli di Erogarlo una circostanza denunciata anche da altri utenti circa la reperibilità di farmaci rari intanto nostra madre si è aggravata e abbiamo dovuto portarla al pronto soccorso del Cardarelli ma sottolineano ancora i figli della donna a distanza di oltre 40 ore non abbiamo avuto più notizie ci chiediamo concludono come sia possibile prescrivere un farmaco urgente senza che il paziente possa averlo a disposizione sono passati ormai 4 anni dal terremoto che colpì il basso Molise in modo particolare Monte Cilfone Guglionesi la ricostruzione al palo e il 31 agosto scade il termine per la presentazione della richiesta di contributo i tecnici fanno fatica a produrre le pratiche i sindaci chiedono al commissario Toma la proroga intanto concesse le credenziali per la piattaforma finora inattiva Andrea Nasille poco meno di 4 anni fa il terremoto colpì una vasta area del basso Molise 21 comuni compresi nel cratere tra questi più di uno con danni ingenti anche sfollati e la ricostruzione da allora è al palo due settimane fa con un'ordinanza sono state messe a fuoco le regole per la presentazione delle istanze di riparazione funzionale ma c'è un problema la scadenza del 31 agosto sta creando non pochi disagi tanto da spingere Giorgio Manes sindaco di Monte Cilfone tra i comuni maggiormente colpiti dal sisma assieme a Guglionesi soprattutto a inviare una nota al commissario ad acta Donato Toma e al responsabile di struttura Giuseppe Cutone per chiedere una proroga dei termini l'ordinanza di ricostruzione e riparazione si riferisce a edifici e unità immobiliari a uso produttivo commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti molti tecnici hanno manifestato a scritto Manes nella lettera la loro difficoltà a produrre le pratiche entro il 31 agosto oltre alla difficoltà di reperire ditte con l'immediata disponibilità in quanto alcune sono già impegnate con lavori con il super bonus 110% l'ordinanza numero 5 prevede l'implementazione della piattaforma digitale scheda parametrica utile alla determinazione del contributo massimo concedibile sulla base dei parametri previsti dal provvedimento commissariale e proprio su questo Manes nella lettera ha sottolineato l'inattività della piattaforma e l'assenza di credenziali per accedere ma qualcosa si è mosso credenziali fornite resta aperta la questione proroga del termine di presentazione dell'istanza di concessione del contributo il sindaco di Montecilfone l'ha chiesta a nome di tutti i sindaci del cratere tragedia in un appartamento di via Trigno a Termoli una giovane donna di 44 anni è stata trovata senza vita dai genitori rientrati in casa a mezzanotte circa sul posto gli operatori del 118 i volontari della misericordia la polizia tutto da subito ha lasciato pensare a un gesto estremo della donna rimaniamo a Termoli disavventura in via Duca degli Abruzzi per un ragazzo di 24 anni in vacanza con i genitori due giovani di nazionalità straniera poi identificati dai carabinieri si sono avvicinati al turista uno dei due lo ha spinto e gli ha strappato la catenina che aveva al collo ferendolo prima di fuggire i due balordi lo hanno minacciato dicendo che conoscevano l'indirizzo di casa il ragazzo per alcuni minuti sotto sciocco ha poi denunciato tutto ai carabinieri e ancora da Termoli ci arriva un'altra notizia un turista svizzero di 18 anni mentre era a bordo di un gommone insieme alla famiglia in un tratto di mare tra Termoli è petacciato accusato un malore immediata la chiamata alla capitaneria che ha così chiesto l'intervento della lifeguard Carlo il bagnino è partito alla volta del gommone che era all'argo lo ha raggiunto ha caricato il ragazzo e una volta arriva lo ha assistito il giovane ha ripreso dopo poco le forze ed ecco vedete la foto del bagnino che col gommone ha portato in salvo il giovane turista svizzero presentato in mattinata a Campobasso il bando turismo e cultura 2022 2023 l'occasione per fare il bilancio delle attività messe in campo per promuovere e valorizzare la regione oltre 7 milioni di euro stanziati dal 2018 ad oggi per il settore ci dice tutto Anna Maria Di Matteo dalla 2018 ad oggi la regione ha stanziato oltre 7 milioni di euro di cui 3 solo per quest'anno per la valorizzazione e la promozione del turismo un progetto che va avanti e che già guarda al prossimo anno in mattinata il presidente della regione Tome e l'assessore alla cultura Cotugno hanno fatto il punto nel corso di una conferenza stampa organizzata all'ex GIL illustrando anche i contenuti del bando turismo e cultura 2022 2023 Dopo due anni di pandemia veramente è un grande piacere ripartire con il territorio oltre 300 manifestazioni su tutto il territorio regionale da Venapro a Termoli da Agnone a Larino nessuno è escluso tutti quanti quelli che hanno partecipato con oltre 100 progetti sono stati tutti quanti all'altezza di una grande offerta turistica e culturale della nostra regione oggi presentiamo il impropriamente detto come dicevo prima il cartellone ma soprattutto facciamo un po' quel punto della situazione 2022 con un lancio anche il 2023 perché siamo anche pronti per il 2023 questa è la grande novità di oggi che noi prima di novembre siamo in condizione di presentare tutto il programma 2023 da gennaio a dicembre 2023 per promuovere una regione che finalmente è su tutto il panorama nazionale internazionale relativamente al turismo sono circa 7 milioni e 400 mila euro abbiamo investito sin dal 2018 i risultati sono tangibili diciamo che siamo soddisfatti possiamo fare ancora meglio ancora di più ecco su che cosa state puntando in maniera particolare guardi c'è un'idea che quest'anno è stata si è concretizzata che noi dobbiamo avere diversi segmenti di eventi quelli culturali un po' più delitte dove ci vuole una educazione al teatro alla musica di tipo diverso da un'educazione più popolare e sono quelli che fanno capo a Poetica per esempio che porta avanti la fondazione Molise Cultura poi abbiamo una fascia molto importante che è quella dei festival che non può essere confusa è trattata la stessa maniera del sostegno che diamo all'attività del folklore all'attività delle sagre popolari quindi dobbiamo discernere questi eventi L'amministrazione di Termoli punta sempre di più a favorire una mobilità sostenibile lo fa realizzando progetti che consentono di avere sempre meno auto in centro città e creare zone pedonali sentiamo Francesca Danversa 300 posti auto su tre livelli con una copertura in pannelli solari e colonnine di ricarica elettrica per le auto è il progetto del parcheggio multipiano in piazza donatore di sangue a Termoli presentato in comune che rientra nel progetto di riqualificazione della mobilità è un progetto che noi quando ci siamo insediati abbiamo in qualche maniera ipotizzato soltanto all'inizio poi per evitare di prendere alcuni fondi assegnati al comune di Termoli abbiamo chiesto alla regione di rimodulare quei fondi che erano previsti per il tunnel nella costruzione di questo parcheggio multipiano perché sono sempre fondi legati alla mobilità e sulla base di un progetto di riqualificazione della stazione di Termoli da parte di RFI ci sono delle belle soluzioni che eviteranno di fare entrare le macchine a Termoli di poter creare maggiore aree pedonali per una città che l'estate poi il centro lo vive in maniera intensa un progetto pensato in collaborazione con Ferrovie dello Stato che comprende anche un sovrappasso ciclopedonale sopra i binari della stazione per essere in centro città in pochi minuti la data di inizio lavori sarà contemporanea con quella del raddoppio ferroviario il progetto del tunnel è stato abbandonato e il relativo finanziamento da 5 milioni di euro è stato rimodulato per il nuovo multipiano che sarà appaltato entro il 31 dicembre l'amministrazione punta sempre più a creare le condizioni per una mobilità ciclopedonale e in quest'ottica che il sindaco Roberti ha parlato anche di un'opera che collegherà via Carlo del Crua con il porto turistico torniamo adesso a parlare dell'emergenza cinghiali ma anche della peste suina per quest'ultima via libera della regione al piano di interventi urgenti per quanto riguarda i cinghiali da registrare il commento anche del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola il servizio gestire controllare e soprattutto eliminare la peste suina africana è l'obiettivo del piano di interventi urgenti per il quale c'è il via libera della regione uno strumento a lungo sollecitato che è valido 5 anni e si applica all'intero territorio regionale compresi parchi oasi di protezione territori di caccia aree urbane si tratta di un'integrazione dei piani di controllo selettivo approvati considerata l'emergenza si vuole anche proteggere le aziende zootecniche e gli allevamenti suini dal rischio del virus della cosiddetta PSA con il riscontro rapido dell'infezione il piano vuole anche essere uno strumento per intervenire sull'emergenza cinghiali infatti tra gli obiettivi c'è la riduzione del numero di questi animali considerando il ruolo epidemiologico che hanno nella propagazione della malattia nell'ambito dei piani di gestione regionali della fauna selvatica è prevista infatti la possibilità di ricorrere iniziative per ridurre i cinghiali almeno dell'80% in 5 anni un obiettivo ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola che andava perseguito già da qualche anno mentre si è perso tempo prezioso è stato finalmente approvato il piano di gestione della fauna selvatica che sollecitavo da tempo ha continuato commentando poi il ricorso respinto presentato dalla regione che in Italia la proliferazione degli ungulati sia ormai fuori controllo è un dato di fatto così come era abbondantemente prevedibile ha spiegato Nola che la regione avrebbe dovuto pagare con tanto di interessi danni causati agli agricoltori e ora alla beffa si aggiunge il danno non solo non si è provveduto immediatamente a risarcire le aziende danneggiate dai cinghiali ma si è tentato di aggirare il problema il risultato spese e legali aggiuntive per opporsi alle legittime richieste di risarcimento più i costi dell'appello ma il diritto degli agricoltori resta in piedi il titolare della delega all'agricoltura ha concluso Vittorio Nola ha preferito cercare capri e spiatori il ministro Patuanelli su tutti salvo poi correre ripari ad emergenza già scoppiata con soluzioni tampone e non concertate a dovere Cerro al Volturno si tinge di rosso contro il femminicidio tutto rientra nella rassegna artistica presa di coscienza 2022 organizzata dall'associazione Amoce che quest'anno ha voluto omaggiare tra le tante vittime Romina De Cesare sentiamo il servizio di Valeria Migliore Il suo volto resterà lì per ricordare a tutti chi era Romina la sua dolcezza i lunghi capelli biondi e la tragica fine a cui è andata incontro uccisa per amore un amore malato che le ha strappato il futuro Michele Fattore artista cerrese ha voluto rappresentarla così come un angelo sorridente volato in cielo troppo presto Il morale per Romina De Cesare la giovane di Cerro uccisa dall'ex fidanzato è stato inserito nella cornice della terza rassegna di arte contemporanea presa di coscienza 2022 organizzata dall'associazione Amoce e dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne Questi sono dei momenti per riflettere dei momenti per ritornare a vivere una situazione spiacevole ma con l'intento di lanciare un messaggio perché questi eventi così tragici non possono capitare più Questa è l'entrata del tunnel dell'orrore l'orrore del femminicidio in cui tante donne tra le mura domestiche sono costrette a sopportare violenza e abusi sono proprio le grida di queste donne a guidare l'ingresso verso il vivo della manifestazione Hai fatto di me un moff perché non taci c'è anche una specie di museo dell'orrore che porta attraverso una specie di tunnel al vero e proprio luogo in cui c'è il murales dedicato a Romina Infatti ti ho fatto un sorriso amaro perché quella è un'opera molto impattante di Dario Palumbo tunnel dell'orrore non a caso All'interno del tunnel ci sono frasi molto forti addirittura la voce di un uomo narrante che dice guarda cosa mi hai costretto a fare come se io ti uccido è colpa tua quindi è molto singolare Dario ha fatto un'opera estremamente impattante forse anche troppo per certi aspetti però è un'opera necessaria un'opera necessaria perché il dolore tocca solo chi lo vive c'è la frase fatta beh Dario ci ha dato un assaggio che il dolore lì forse non l'abbiamo vissuto ma forse lo abbiamo attraversato almeno tante persone lì dentro hanno davvero attraversato il dolore La serata si è conclusa con un monologo sul femminicidio un volo molto rapido scritto da Greta Rodanna e interpretato da Andrea Cacciavillani con la musica del maestro Francesco Cipullo durante il monologo la performance canora e artistica di Vania Trivisonno Lutto ad Agnone si è spento nella notte Pasquale De Simone già segretario comunale ed ex vice sindaco eletto nella lista di Francesco Marco Vecchio nel 1999 l'uomo classe 1947 combatteva da tempo contro una brutta malattia i funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di Maiella ad Agnone da Telemolise le condoglianze alla famiglia De Simone Occhi puntati al cielo stellato a Castel del Giudice si è svolto un evento dedicato all'astronomia e ai miti vediamo il servizio di Enrico De Simone Una serata con il naso all'insù per osservare le luci del firmamento a Castel del Giudice l'evento Le Stelle nel Borgo organizzato dal comune dall'albergo Borgotufi e dal blog Turismo in Molise ha catturato l'attenzione di numerosi visitatori che hanno potuto apprezzare i paesaggi e la tranquillità del borgo altomolisano prima la visita alla mostra fotografica del Molise a casa tua poi il laser al cielo per osservare particolari costellazioni e restare in ascolto di miti greci l'iniziativa guidata dal blogger Paolo Pasquale ha alimentato le fantasie del gruppo di curiosi Tutte le divinità di cui si parla nelle stelle in realtà erano divinità a cui i nostri avi prima sanniti e per romani credevano veramente e quindi tantissimi sono i templi ritrovati in onore di Diana di Ercole di Giove di Saturno eccetera eccetera quindi il nesso stelle territorio c'è e come Tra un racconto su Zeus e uno sguardo alla costellazione del dragone non è mancato il buon cibo l'albergo diffuso di Borgotufi ha offerto ai visitatori un gustoso menù composto da piatti realizzati con prodotti locali abbiamo portato in tavola la tradizione molisana abbiamo fatto un menù basato soprattutto su prodotti locali tra cui verdure dell'orto di produttori locali produttori molto vicini a noi abbiamo un orto che da poco tempo è stato impiantato per cui a breve avremo anche le nostre verdure e tutto ciò che immettiamo nei piatti il nostro menù è un menù molto tradizionale caciocavallo locale stracciata quindi si cerca di valorizzare tutti i prodotti del posto presto a Castel del Giudice gli occhi saranno nuovamente puntati al cielo l'appuntamento astronomico si rinnoverà all'8 e il 21 agosto prossimi prestigioso prestigioso riconoscimento dalla fondazione cooking show per Claudio Recchi titolare del ristorante Recchi Fish a Termoli ha segnato il titolo di stella della ristorazione per essere eccellenza termolese nel settore della ristorazione con l'impegno di rispettare oggi e sempre le regole della buona cucina marinara mediterranea nel mondo E' tutto pronto a San Martino in Pensilis per la undicesima edizione di Jaws Blues Festival appuntamento domani e dopodomani in largo trinità con artisti di calibro internazionale ce ne parla Pasquale Di Bello Sarà la performance elettrica della Mighty Mo Rogers Band ad aprire venerdì 5 agosto l'undicesima edizione del Jaws Blues Festival di San Martino in Pensilis Mighty Mo Rogers 80 anni soprattutto alle tastiere e collaborazioni prestigiosissime una su tutte la produzione di Sonny e Brownie album seminale di Sonny Terry e Brownie McGee a seguire il 6 agosto sempre nella meravigliosa cornice di Largo Trinità ad esibirsi sarà James Dolce con la sua band gli Inner Soul a curare l'edizione 2022 è stato Vincenzo Nardelli artisti internazionali fortunatamente riusciamo a riaccogliere in Italia artisti provenienti dagli Stati Uniti parliamo di blues quindi chiaramente la patria del blues è quella Mighty Mo Rogers la prima sera la seconda sera chiuderà Gemmi Dolce da New York però non dimentichiamo quegli artisti locali quindi le aperture le affidiamo agli artisti italiani The Blues Queen la prima sera e la seconda sera ci sarà Antonio Gambacorta Trio come tantissimi altri eventi dell'estate molisana il Jaws Blues Festival è sostenuto dal programma Molise Cultura della regione Molise ma una rassegna di grandi contenuti e di grande qualità con il Bando Turismo e Cultura 2022 oltre 100 progetti finanziati con oltre 300 manifestazioni durante tutto l'anno 2022 per veicolare un patrimonio culturale grandissimo della nostra regione proprio attraverso gli eventi Nel programma dell'estate San Martinese il blues è un appuntamento fisso in una cornice meravigliosa sottolinea il sindaco Giovanni Di Matteo Questo progetto musicale che nasce nato 11 anni fa si innesta in un contesto bellissimo che è quello del centro storico di San Martino che è rappresentato Largo Trinità ed è ormai un evento importante che comincia ad avere una storia altrettanto importante Il Jaws Blues Festival è dedicato alla memoria di due animatori e protagonisti della scena musicale San Martinese Lino Musacchio e Giancarlo Grazie a Plena La Messa dell'Aurora è sempre un momento di magia per il popolo di San Basso nella giornata dedicata al patrono della città adriatica e della diocesi di Termoli Larino alle 6 di questa mattina al mercato ittico la celebrazione ufficiata dal vescovo Gianfranco De Luca ha segnato l'inizio della seconda giornata di festeggiamenti aperti ieri 3 agosto con la processione a mare vedete appunto le immagini della cerimonia di questa mattina all'alba davanti ai tanti fedeli il vescovo ha parlato di amore coniugale famiglia e figli nel corso dell'omelia tutto ha detto De Luca si può affrontare superare con la parola e la preghiera dopo la messa in processione la statua di San Basso è stata riaccompagnata in cattedrale Noi San Basso si chiama così la mostra itinerante curata dal fotografo termolese Stefano Leone dedicata al patrono di Termoli appunto l'iniziativa culminerà a dicembre con la partecipazione di fotografi internazionali sentiamo Andrea Nasillo Noi San Basso è l'ultima iniziativa di Stefano Leone fotografo eclettico di Termoli che negli anni ha immortalato personaggi e scorci suggestivi della città la mostra itinerante aperta fino al 5 dicembre giorno che pede il calendario a tutti gli effetti San Basso è dedicata proprio al patrono di Termoli curata da Leone vedrà la partecipazione di alcuni artisti internazionali tante foto sono state portate in processione dalle barche e molte saranno inserite nelle casette dei libri posizionate in più punti della città in collaborazione con l'associazione Il Mosaico il sindaco Francesco Roberti ha definito Leone un fotografo capace ogni anno di realizzare dei capolavori e di trasmettere ai giovani le tradizioni e la termolesità Senza meno è un momento di riflessione riverberato nel tempo partendo dall'occasione della festività estiva del Copasono San Basso per estendersi fino al 5 dicembre quindi la fotografia come mezzo non solo di realizzazione e di esternazione della propria sensibilità ma come forma di attenzione che ognuno può rivolgersi e in relazione all'immagine che inquadra e in relazione ai sentimenti che quell'immagine suscita in ognuno è tutto ora questo l'ultimo servizio del nostro telegiornale dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo per il TG Flash intorno alle 15 buon pomeriggio e grazie per essere stati con noi grazie